Stiamo incrociando con Renato 10 metri più bassi 15 E allora lui mi sopra Tempo due passaggi e mia è sopra La macchina è l'epoca Vediamo se riesco a prendere la fattura Ok La Spyder La Porsche è aperta Almeno 300 metri Eccoci che ci siamo in quota Mi incrocio con Renato, lui già più alto di me Anche io prima ero con la 4L Anzi, qualcosina di più Ehm Anche io prima era con la 4L Anzi, qualcosina di più Ehm E' un'idea di più Ehm Ehm Dove Sì, c'è l'acqua. Ma, non mi sembra che ti sia questo grosso vantaggio da l'armi. C'è l'acqua. Eh, il giochino oggi è qua, non c'è niente da fare, se no si sblocca la situazione possiamo malapena volare in questa situazione. Eh, ho già preso una trentina di metri, quindi il 2.90, adesso il 3.14, 3.20 dove ero io prima. Comunque siamo già alzati perché sono di nuovo sopra il gesbugietto. Grazie a tutti.